Tira! Stop! Oh! 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 Dai! Cagare! Dai! C'è un lungo di merda! Merda! Che penso io! Bella ragazzi, sono Manuel4K Finalmente sono riuscito a fare un take-over anche a Bologna, città del basket in questo bellissimo campetto ai Giardini Fava Purtroppo il giorno esatto del take-over ha piovuto quindi l'abbiamo spostato il giorno dopo ma comunque siete venuti in tanti, alcuni anche da città lontane quindi iscrivetevi immediatamente perché i prossimi video, oltre a questo ovviamente, saranno assurdi Quindi niente, buona visione ragazzi e let's go! Tigre! Tigre! Fuori! Ah dai! Ah dai! E' vero! E' incredibile! Questo è dentro per forza Ah! Uh! Tiro da dimenticare! Ah dai! Culliver! Sei alto! Con quel sacchetto in mano! No way! Ah! Ah! E' arrogato! 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 Dio! Edio! E' arrogato vecchio! C'è tanto, cazzo! E' arrogato! E' arrogato! E' arrogato! E' arrogato! E' arrogato! E' arrogato! Se lo tendi così Vengolo qua, se lo fa Vengolo qua Tira Stop Tira, tira Sì 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 Sette, sette a scuola No, scivolata Vai, cazzo Stavo marcando No No Destra Sì 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 Questa gamba da fenicottero che vai su Sì 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 No Appena segnò un canestro Si abbaio al tipo che mi marca Appena segni e fai già ridere così Stai zitta Vicar che mi fa i blocchi Vistra Stai dietro Non lo so Perché? Faccialo in bocca Quello lo farei anche gratis Vincere 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 Dai No 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 Vincere 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 Sì Vincere 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 Non lo vuoi dal blocco. Guarda, lo scaccio. Non lo scaccio. Noi, guarda! Vai! 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 No, Jiger! Cosa stai facendo? Oh! Dai, cagare! È un lungo di merda! È un lungo di merda! È un lungo di merda! Vai, fatti vedere il Tiger. Tiger! Mai lasciare il Tiger libero! Mai lasciare il Tiger libero! Mai lasciare il Tiger libero! Occhio! 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 Oh! Oh! Ruba la palla ai ragazzini e poi va a schiacciare da solo! Ma non è nascido! E' ero fuori! È mentale! E' fatto all'off pure! Football pressing mentale! Gross! Bravo! Bravo rossi. A schiaffo lo faccio! Ci penso io Tanto sbaglio Previ il rimbalzo Dio Cristo Giagge Mi stai infaccato Ok Dai fuori Si ripensi Grazie a loro Mi chiedi a Giagge Non hai tre Facciando a quanto in alto Non deve tirare Fuori Fuori Come dicevi Tu in pace Non hai ripreso Il mio tiro libero No Adesso Rifallo Rifallo Non c'è credo Rifallo Non entra più E niente ragazzi Qua ci sono io Che mi preparo Ed esco la sera Per visitare Bologna Semafori lunghissimi Ma easy Però le unipol sai E' molto figa Devo dire Bologna 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 E dopo aver provato Alcuni cibi tipici bolognesi Ho capito che sicuramente Ci tornerò a Bologna Per fare altri takeover E altro basketball content Vi ricordo quindi di iscrivervi Perché i prossimi video Saranno dei banger assoluti Quindi ci vediamo Al prossimo video God damn Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti